we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi patch notes della 8.30 finalmente è arrivata una delle patch più grandi di sempre per gli utenti di pc quasi 7 g e tantissimi giga anche per tutti gli altri utenti dalle varie piattaforme ma andiamo subito a vedere ragazzi alle mie spalle ovviamente la novità principale il furgone di riavvio mai darsi per vinti mai arrendersi riporta in battaglia i compagni eliminati con il furgone di riavvio lanciati nella mischia e diventa l'eroe di cui la tua squadra ha bisogno questa è la descrizione del furgone ma arriva anche una modalità tempo limitato volo esplosivo in questa modalità si combina il divertimento esplosivo della altramat esplosivi ad alto potenziale con il jetpack sfreccia nei cieli e rispedisci tutti gli altri nella lobby a suon di bombe in questa modalità ragazzi troveremo solo armi esplosive troveremo anche nel bottino a terra i jetpack molto più corto il tempo di attesa tra un cerchio e l'altro e il numero massimo di razzi che potremo ottenere è 120 quindi una cosa incredibile ma andiamo avanti ragazzi invece parliamo del furgone di riavvio e delle schede adesso quando i membri della squadra vengono eliminati rilasciano la loro scheda di riavvio quindi ecco dove trovarla che può essere raccolta ovviamente da un altro membro della squadra si può poi portare la scheda di riavvio al furgone ma attenzione perché rimarranno nel per terra solo per 90 secondi ci vorranno invece 10 secondi per attivare la scheda con il furgone e dopo averlo utilizzato per 120 secondi un furgone non potrà essere di nuovo utilizzato il membro del team che viene respawnato avrà 100 di salute una pistola comune 36 munizioni leggere e 100 unità di legna ragazzi quindi qualcosa per combattere e per buildare c'è modifiche anche al fucile da fanteria diminuiti i danni da 40 nella versione non comune e da 42 nella versione rara da a 38 e 40 hanno anche ridotto il danno nella massima portata quindi fate meno danno se colpite un nemico a distanza hanno sistemato anche finalmente gli scatti della trappola ad ardo velenoso che a volte facevano tremare un po la visuale risolto questo bug grafico tantissime correzioni di bug ve ne cito solo poche alcune ragazzi risolto un problema per cui le armi a colpo singolo non si caricavano correttamente in modalità di mira e io me lo ricordo effettivamente bisognava insistere un po di più risolto un problema per cui i giocatori che venivano respinti indietro quando sparavano il canone pirata a volte avevano anche una respinta verso l'alto e rischiavano di prendere dei danni un problema anche per cui gli effetti del proiettile dell'arco esplosivo a volte attraversavano i nemici senza colpirli e tanti tanti altri ma andiamo invece nel game vero e proprio è arrivato l'evento bottino dei bucanieri ragazzi una modalità a tempo ovviamente un ltm diversa in rotazione quindi tante modalità diverse dal 10 al 15 aprile e attenzione bisognerà completare delle sfide gratuite per ottenere delle ricompense in game hanno aumentato anche di nuovo il tasso di generazione delle mappe quelle leggendarie che troviamo a terra l'hanno raddoppiato da 0 e 25 per cento a 0,5 e nei forzieri hanno aumentato da 1,55 a 3,05 per cento tutti i formati immagine ragazzi adesso avranno lo stesso campo visivo verticale sul mac e sul pc infatti nel prossimo futuro tutti i monitor ultra wide saranno limitati a 16 noni nelle modalità a gioco competitivo ve ne avevo già parlato qualche giorno fa per evitare appunto risoluzioni strecciate assurdo hanno finalmente aggiunto anche le sensibilità separate per tutti quelli che giocano da controller in modo da darvi più precisione nel settare appunto la vostra sensibilità in modo che siate più comodi abbiamo anche risolto hanno anche abbiamo risolto un problema per cui il danno del fucile di precisione non causava l'animazione dei giocatori danneggiati cioè non si vedeva che il colpo andava a segno altri bug corretti i giocatori che entrano in gioco durante il le warm up non assegneranno eliminazioni se un altro giocatore a causa danno da caduta che cagata ragazzi quindi se facciamo cadere un giocatore non ci dà l'eliminazione se lo chigliamo appunto semplicemente facendolo cadere da una struttura ma non toccandolo con i proiettili modificate anche ragazzi anzi modificate un problema per cui i giocatori possono modificare le strutture connesse tra di loro per fare fluttuare anziché distruggere qua non chiedetemi che cavolo vuol dire ma parliamo di cose serie competizioni ragazzi tornei nuovo torneo 13 e 14 aprile settimana degli open della fortnite world cup monte premi totale un milione di dollari i giocatori migliori di ogni area server si qualificheranno per le finali della fortnite fortnite world cup a new york i dettagli completi della fortnite world cup saranno nel link che vi lascio pinnato nei commenti si giocherà in singolo per partecipare a questo evento i giocatori devono aver raggiunto la lega campioni in arena attenzione perché attivo il blocco regionale i giocatori possono partecipare alle qualificazioni per una singola regione per ogni settimana attenzione perché il 13 aprile ci sarà il primo round e il 14 aprile ci sarà il secondo round che vedrà inseriti i 3000 migliori giocatori del primo round i premi del torneo potranno essere ovviamente consultati in ciascuna sessione quindi ci sarà proprio la classifica in game e tra l'altro ragazzi controllate bene tutte le informazioni nel link per essere sicuri di fare le cose fatte bene un sacco di migliorie anche nelle prestazioni per xbox switch e hanno sistemato parecchio la risolta come si dice la parte grafica è più leggera quindi la vedete meglio le texture sono uguali ma il peso è minore migliorate le prestazioni per le trappole migliorate le prestazioni per l'interfaccia utente nelle sfide un sacco di correzioni di bug anche nell'audio addirittura sistemati e bilanciati nuovamente i suoni in modo da non dare degli sbilanciamenti mentre ci sono delle sessioni concitate di fight modifiche anche nell'interfaccia utente hanno abilitato il menu nelle console hanno le coperture le skin delle armi possono essere applicate alla maggior parte delle armi inserendo il nuovo slot varie andremo a vederlo ovviamente in game tante cose anche per il mobile hanno migliorato la stabilità per gli utenti da mobile che magari avevano gpu con degli arresti anomali hanno sistemato anche il problema che alcuni avevano nel trascinare gli oggetti nella barra rapida modifiche anche in modalità creativa c'è la nuova selezione multipla afferra la cassa d'angolo o l'intero quartiere la casa d'angolo o l'intero quartiere è arrivato lo strumento selezione multipla gli spostamenti sono un gioco da ragazzi ovviamente lo vedrete per tutti quelli che giocano in creativa e arriva anche ragazzi il nuovo oggetto area di cattura deposita l'oggetto all'interno dell'aria che verrà utilizzata per il punteggio e questo dispositivo servirà per la modalità cattura la bandiera aggiunte nuove isole e migliorati ragazzi miliardi di bug per la modalità creativa vi invito ovviamente a leggere tutte le patch notes ufficiali sul sito di ap games beh ragazzi anche per questa pace 8.30 sapete tutto vi ringrazio per avere guardato il video mi raccomando codice creator xyudarone noi ci vediamo alle 13 live ciao